Le celebrazioni per il 209 gradi anniversario Fondazione dei Carabinieri che quest'anno, in occasione della Capitale Cultura, il Comando Provinciale di Brescia voleva dedicare in particolare alla cittadinanza con una serie di iniziative aperte al pubblico continua a Brescia. Dopo la mostra di veicoli a Piazza Loggia la mostra a Santa Giulia, in effetti, nel pomeriggio le donne e gli uomini in uniforme con i loro mezzi si sono trasferiti nel castello con le informazioni sull'attività del Carabinieri ha risposto alle molte domande curiosità di turisti cittadini. Per l'occasione, anche un gadget a tema culturale. Per approfondire la figura del Capitano Masotti il codice QR L'Arma di Brescia ha infatti creato un segnalibro con immagini che rappresentano passato, il presente e futuro dei Carabinieri a Brescia e in cui ulteriori qui non è percorsa, sono nominate la caserma di Piazza Tebaldo Brusato. C'è stato anche un momento di incontro con supereroi, durante l'evento del cosplayer che ha avuto luogo nel castello di Brescia.